Val cross con il sinistro, Bonazzoli e gol! Bonazzoli per il 3-1, imperioso, lo stacco del centro avanti! Gran gol, grande palla di Diana e adesso sicuramente la partita non voglio dire che è conclusa ma è quasi fatta e bene che Walter Novellino ha aspettato il campo perché credo che in questo momento sia sostituito Bonazzoli ha aspettato il calcio d'angolo per far entrare Poriello e gli ha dato grande gol! Perfetta l'esecuzione! Abbiamo detto che quando si va sugli esterni la Sampo diventa micidiale, ecco infatti il cambio con Bonazzoli due volte sugli esterni, uno da sinistra, uno da destra e due grandissimi gol! Al 41esimo quindi la Sampo chiude la partita con il 3-1 a firma di Emiliano Bonazzoli dopo Volpi e Diana e adesso passa il testimone per questa passarella conclusiva a Marco Porriello gol importante per Bonazzoli e per la Sampo...